Musica Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain on Air Di cosa parliamo oggi? Un po' di fatti generali Beh, tra investimenti, incidenti, io che mi devo fare la gastroscopia eccetera eccetera Mi sto rilassando un pochino perché questi giorni sono stati davvero molto travagliati Strano ma vero, il sito lo sta gestendo Alfonso Quindi non rimanete scioccati se vedete solo articoli di Alfonso e due o tre miei perché sembra una cosa impossibile ma purtroppo lo è Poi sono riuscito già a graffiare il bumper, non so se si vede Sì, credo di sì L'iPhone sta bene, ancora è perfetto Finora non ha subito gravi danni E niente, vi volevo informare anche che sono iniziati i lavori della seconda edizione del magazine Quindi il secondo volume di Apple Zain Magazine Giorno 24 febbraio come ogni 24 del mese ci sarà l'uscita Peppe Peppe oggi mi ha abbandonato, dovevamo andare all'Apple Store di Catania Insieme a un nostro utente che si chiama Andrea Andrea Dall'Aquila Ma purtroppo Purtroppo Peppe mi ha abbandonato Ma giustamente perché gli hanno spostato un esame all'università perché gli mancano gli ultimi esami per laurearsi Dal 17 all'8 quindi Praticamente fra una settimana quasi, anzi forse di meno Ha l'esame Quindi in automatico mi ha dovuto cestinare per l'esame Ma tranquilli Poi volevo informare anche che il magazine ci siamo informati Praticamente più persone ci chiedete il magazine stampato Meno verrà a costare a tutti quanti Quindi commentate qui sotto, diteci chi lo vuole il magazine Fatecelo sapere tramite email Alla mail a mirco.applezain.net Oppure direttamente a Peppe su Facebook O a me su Facebook Prenderemo i nominativi e vi contatteremo Faremo stampare le copie base Ovviamente prima chiediamo i soldi perché non mettiamo mai i soldi avanti Perché rischiamo di andare sotto Vabbè ragazzi questo era un piccolo video veloce per dire questo Ah, altra cosa che presto su Facebook pubblicherò delle foto compromettenti di Alfonso Calcagno Rimanete con noi per vedere queste foto Oppure farò un video, non lo so Ma in qualche modo le pubblicherò Ci vediamo al prossimo appuntamento Ricordatevi di iscrivervi qua sopra Mettere mi piace qui sotto E commentare qui sotto Ciao a tutti